La via Francigena è un percorso fatto di territori unici da riscoprire e che sempre più turisti, non solo pellegrini, decidono di esplorare. Sono circa 50.000, infatti, i viaggiatori che ogni anno attraversano il tratto toscano dell'antica via e che presto potrebbero arrivare a quota 200.000. È quanto emerso dal convegno La nostra Francigena, dove è stato fatto il punto sulle proposte arrivate dai territori, dopo gli incontri organizzati dalla regione, a Pontremoli, Fucecchio, Siene e Lucca, incontri nati per discutere di accoglienza, promozione turistica e manutenzione lungo la via Francigena. Tra le proposte emerse, la necessità di rendere più sicuro il tracciato, la disponibilità di fondi per la manutenzione straordinaria, un sistema legato alla garanzia di servizi lungo la Francigena, la certezza degli itinerari, l'importanza di una rete di informazioni per il pellegrino sull'accoglienza. Sul tema della promozione dei territori è stato accolto con piacere l'accordo tra Toscana Promozione Turistica e Comuni Coinvolti. Questi incontri organizzati dalla regione toscana sono stati la prima applicazione del concetto di proposta omogenea turistica contenuta nella nuova legge sul turismo della Toscana, un modo per ascoltare le stanze dei comuni e associazioni privati e decidere insieme come programmare le attività future lungo la via Francigena. Grazie a tutti.